Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo, nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unicenito, perché chiunque crede in Lui non vada a perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Grazie.